Torna Pescara Bianco e Azzurro, terza edizione di questo evento enogastronomico organizzato da Flag Costa di Pescara, 21-22 maggio, una nuova edizione, novità all'insegna del buon mangiare e del buon bere. Innanzitutto all'insegna del territorio, del nostro territorio. Il buon bere proviene dalle cantine abruzzesi, il buon mangiare proviene dalla nostra barineria e il flag che nasce per promuovere, per pubblicizzare e per far conoscere soprattutto quanto più possibile il pesce dell'Adriatico ha proprio questa funzione ed ecco perché è il capofila di questo progetto che per il terzo anno vede la sua realizzazione. L'obiettivo principale è proprio quello di far conoscere il pesce, le qualità del pesce povero, affiancato poi alla qualità dei vini abruzzesi con più di 20 cantine che daranno diversi vitigni bianchi, comunque rigorosamente bianchi, per fare in modo di far conoscere anche al potenziale turista ma anche al residente le grandi potenzialità del pesce, soprattutto quello povero, perché poi l'obiettivo è anche quello del flag di far conoscere il pesce a miglio zero ma oltre alla proprietà del pesce quest'anno ci sarà anche la storia della pesca quindi momenti importanti di racconti dei pescatori che si affiancheranno a una degustazione in serata col bel tempo quindi potremmo vivere i momenti della storia e dei racconti dei pescatori e il giorno successivo anche i momenti della qualità del pesce affiancati al vino bianco e al pesce dell'Adriatico.